A New York, al centro del mondo, i giovani leader di domani si incontrano per progettare il futuro. Un'esperienza incredibile all'interno del Palazzo di Vetro in New York per discutere delle grandi questioni del mondo. Ho lavorato al fianco di studenti di tutti i paesi per imparare ad essere un leader. Così ho capito che il futuro è un dovere. Grazie a tutti.